Continua a Bitonto il progetto Impariamo a Mangiare Sano, che da gennaio ha portato 600 alunni di scuola primaria tra i verdi paesaggi di Lama Balice alla scoperta delle sue bellezze e delle sue ricchezze. Al via il terzo laboratorio dedicato all'ambiente e al territorio del Parco Naturale Regionale di Lama Balice, alle sue caratteristiche geologiche, storiche, archeologiche e naturali di eccezionale valore culturale. Promossa da Regione Puglia e Comune di Bitonto in collaborazione con Masseria Lama Balice, l'iniziativa include quattro appuntamenti in masseria didattica. Il primo appuntamento a gennaio è stato dedicato all'olio extravergine di oliva e in particolare al cima di Bitonto. Il secondo a febbraio ha l'importanza nell'alimentazione degli ortaggi. Nel corso di questa terza tappa i ragazzi hanno avuto l'occasione di conoscere le caratteristiche dell'ambiente naturale, geologico e storico che li circonda. L'iniziativa mira a far conoscere il territorio, le sue caratteristiche, flora e fauna e le relazioni tra biodiversità naturale e alimentare attraverso passeggiate nella Lama Balice e visite alle grotte. Grazie alle attività proposte i piccoli partecipanti hanno potuto conoscere anche l'elevata biodiversità e i fenomeni carsici tipici dell'area. Diverse le scuole coinvolte, il primo circolo didattico statale Nicola Fornelli, gli istituti comprensivi Cagliati Don Tonino Bello, Modugno Rutigliano Rogadeo, Silos e Cassano De Renzio e l'istituto Sacro Cuore. Questo sicuramente aiuta a creare un tipo di rapporto di conoscenza appunto ma anche di amore e appropriazione di quel territorio che di fatto è nostro e appartiene soprattutto alle nuove generazioni. Presente l'assessore all'agricoltura del comune di Bitonto, il dottor Francesco Brandi. Il punto di forza è proprio questo tratto esperienziale, cioè i bambini non sono soltanto investiti da un'ondata di informazioni che riguardano la sana alimentazione, la corretta alimentazione, il ciclo produttivo, soprattutto facendo esperienza diretta con questi stessi prodotti, con le tecniche di produzione, con altri aspetti che li riguardano. Quindi direi che i bambini restituiscono poi attraverso le famiglie l'esperienza che stanno vivendo con generosità, con gioia. Per Tiziana Conte, responsabile del servizio patrimonio per la pubblica istruzione nel comune di Bitonto, il progetto rientra tra gli obiettivi prioritari dell'amministrazione comunale ed è teso ad ampliare e diffondere la conoscenza dei cibi sani tra i bambini e le famiglie. I bambini hanno la possibilità di seguire l'intero processo delle colture, quindi dalla nascita alla produzione dei cibi che loro consumeranno. L'appuntamento conclusivo ad aprile sarà dedicato all'importanza di mangiare frutta, preferibilmente locale.